radice di due per radice terza di due per radice quarta di due via le telefonate che fate uguale uguale dice moiz oggi quattro ore di fila di verifica mamma mia non si può non si può anche perché uno insomma si deve preparare per quattro compiti è una tragedia brava nicola facciamo la campanella di natale oggi oggi la faccio farò brava nicola risposta è esatta allora dobbiamo fare come dice nicola indice della radice comune te voglio bene allora che cosa fai devi fare l'indice comune sopra della radice come dice nicola guarda i multipli qua hai un 2 sottinteso qui hai un 3 qui hai un 4 qual è il minimo un multiplo 4 è poste lo sapete tutti quanti siete fantastici e 12 quindi devo scrivere quel devo dare come esponente qua indice comune dopodiché devo dare lo stesso esponente quindi vado radice dodicesima di 2 alla sesta perché qui è come se avessi fatto 2 per 6 per radice dodicesima di 2 qua quanto hai dato 3 per 4 quindi 2 alla quarta per radice dodicesima quanto hai dato qua di moltiplicazione per arrivare a 12 hai dato 3 quindi di 2 alla terza molto bene adesso è facile ciao francesco benvenuto ovviamente ciao andrea benvenuto ovviamente siccome adesso avete tutta radice dodicesima potete mettere tutto sotto un unico segno di radice quindi è la radice dodicesima di 2 alla sesta per 2 alla quarta per 2 alla terza uguale somma gli esponenti 6 più 4 fa 10 più 3 fa 13 radice dodicesima di 2 alla tredicesima ping va bene vi faccio notare una cosa che molto spesso i professori non fanno notare o magari vi spiego questa cosa in un'altra maniera attenti la traccia questa vi può essere super utile per risolvere alcune espressioni con i radicali dice ma non si può semplificare dunque qua potresti tirare fuori certo è chiaro sì perché 2 alla 12 alla tredicesima certo qui puoi fare scusami grazie qui puoi scrivere radice dodicesima di 2 alla dodicesima per 2 ovvero 2 per radice di 2 all'attenzione vi faccio notare un'altra cosa io posso scrivere questa espressione in un'altra maniera attenti radice di 2 può essere anche scritta come 2 alla un mezzo radice terza di 2 può essere scritta come 2 alla scusami un terzo radice quarta di 2 può essere scritta come 2 alla un quarto quindi la traccia iniziale che tu hai può essere scritta in un'altra maniera se tu noti a questo punto tu puoi fare il minimo comune multiplo fra queste tre perché tu sai che gli esponenti si sommano quindi ai due al un mezzo più un terzo più un quarto uguale ma se fai il minimo comune multiplo qua i dodici riesco ad andare un po più sotto scrivo qua guardate scrivo stretto stretto perché c'ho poco spazio 2 alla t del 12 12 diviso 2 e 6 per un 6 più 12 diviso 3 e 4 più 12 quindi ottieni 2 alla tredici dodicesimi ovvero non so se c'era penso di schi di schi di schi schivo schi la radice dodicesima di 2 alla tredicesima che era quello che avevamo ottenuto ti faccio vedere questo l'avevamo ottenuto qua lo tieni qua miei love ecco altri due video per voi ci vediamo la prossima volta ciao